Buonasera, ecco oggi dopo la partita tra Maccabi e Accipicchia siamo con il migliore in campo, Abdubala, scusate per la pronuncia, 4 gol, partita molto combattuta, ricordiamo il risultato finito per 5-5, cosa ci dice la partita? Una bella partita era, abbiamo sbagliato tante occasioni, abbiamo anche sbagliato in difesa per questo, il nostro portiere non era così troppo forte, ma comunque è andato bene. Abbiamo visto che comunque i compagni ti cercavano sempre, da centrocampo in poi, ti conoscono bene, hai delle due tecniche importanti. Sì, noi giochiamo sempre, ogni settimana giochiamo due partite, tre partite, così giochiamo sempre insieme, è per questo. Perfetto, ringraziamo Abdubala, scusate. Grazie. Perfetto, dopo questo free play sportività del giocatore, chiudiamo dalla serie Alfa Sport è tutto, alla prossima.